In questo tutorial vediamo degli esempi di problemi con le frazioni. Partiamo da questo primo esercizio. Sul pianeta Xenox il giorno è diviso in 24 parti, le ore del pianeta Xenox, e dura tre quarti del giorno terrestre. Quanti minuti dura un'ora del pianeta Xenox? Per risolvere questo esercizio osserviamo che il giorno sul pianeta Xenox risulta essere diviso in 24 parti. Visto che sulla Terra il giorno è diviso in 24 ore, possiamo concludere che una parte, ossia un'ora sul pianeta Xenox, corrisponde a un'ora del pianeta Terra. Osserviamo ora che una parte sul pianeta Xenox dura tre quarti del giorno terrestre. Tenendo ora presente che un'ora sul pianeta Terra dura 60 minuti, per andare a determinare quanto dura una parte sul pianeta Xenox andremo a a calcolare i tre quarti di 60 minuti. E allora scrivo tre quarti di 60. Semplifico ora 4 con 60. 4 diviso 4 ottengo 1, 60 diviso 4 ottengo 15. Moltiplico ora 3 per 15 ed ottengo 45. Questo significa che una parte dura 45 minuti. Un autobus può contenere 80 passeggeri. Riusciranno una scolaresca di 16 alunni e due insegnanti a salirvi sapendo che è già pieno per i tre quarti? Per risolvere questo esercizio come prima cosa andiamo a determinare quanti sono i posti occupati sull'autobus. Visto che l'autobus può contenere 80 passeggeri e i tre quarti dei posti sono già occupati, allora il numero di posti occupati sarà pari ai tre quarti di 80. Posso semplificare 4 con 80. 4 diviso 4 ottengo 1, 80 diviso 4 ottengo 20. Moltiplico ora 3 per 20 ed ottengo 60. Visto che in totale i posti sono 80 e 60 sono quelli occupati, il numero di posti liberi sarà pari ad 80 meno 60, ossia 20. Dal testo sappiamo che la scolaresca risulta essere composta da 16 alunni e due insegnanti, quindi in totale abbiamo 18 persone. Tenendo presente che i posti liberi sono 20, allora l'autobus potrà contenere tale scolaresca. Elisa deve preparare la sua torta preferita. La ricetta per 4 persone richiede 240 grammi di farina e 160 grammi di zucchero. Se la farina indicata nella ricetta è i tre ottavi di quella che si trova in dispensa, mentre lo zucchero è i quattro quinti, riuscirà Elisa a fare una torta per sette persone? Per risolvere questo esercizio come prima cosa vado a determinare quanta farina e quanto zucchero servono per ogni persona. Dal testo sappiamo che per quattro persone servono 200 grammi di farina, allora per determinare i grammi di farina che servono per una persona sarà sufficiente dividere 240 per 4. 240 diviso 4 si ottiene 60 e quindi 60 sono i grammi di farina a persona. Dal testo sappiamo anche che per 4 persone servono 160 grammi di zucchero e allora per capire quanto zucchero serve a persona dobbiamo dividere 160 per 4. 160 diviso 4 si ottiene 40 e quindi 40 sono i grammi di 40 sono i grammi di zucchero a persona. Visto che Elisa dovrà realizzare una torta per 7 persone dovrò moltiplicare questi due ingredienti per 7. 60 per 7 si ottiene 420 e 40 per 7 si ottiene 280. Quindi per realizzare una torta per 7 persone ad Elisa serviranno 420 grammi di farina e 280 grammi di zucchero. Dal testo sappiamo che la farina indicata nella ricetta ossia 240 grammi corrisponde ai tre ottavi di quella che si trova in dispensa. Per andare a determinare la farina presente in dispensa dobbiamo dividere 240 per 3 e poi moltiplicare per 8 e quindi scrivo 240 diviso 3 dividendo per 3 si ottiene un ottavo della farina totale e poi moltiplichiamo per 8. 240 diviso 3 è pari a 80 per 8 e si ottiene 640 grammi. Andiamo ora a determinare lo zucchero presente in dispensa esso corrisponde ai 4 quinti di quello che è scritto in ricetta ossia 160 grammi e allora per determinare lo zucchero in dispensa dividiamo 164 per 4 e quindi scrivo 164 diviso 4. In questo modo ottengo un quinto del totale presente in dispensa e poi moltiplico per 5. 160 diviso 4 è pari a 40 per 5 e si ottiene 200 grammi. Ricordiamo che per realizzare una torta per 7 persone servivano 420 grammi di farina e 280 grammi di zucchero. Osserviamo che la farina in dispensa risulta essere sufficiente in quanto 640 grammi risulta essere maggiore di 620. Per quanto riguarda lo zucchero abbiamo 200 grammi in dispensa mentre per la ricetta ne servono 280 grammi quindi lo zucchero non è sufficiente e allora Elisa non riuscirà a realizzare una torta per 7 persone. Antonia è alta gli 8 decimi di bianca e Larissa è alta i 6 settimi di bianca. Chi è la più bassa delle tre? Indichiamo con A Antonia, B bianca, L larissa. Dal testo sappiamo che Antonia è alta gli 8 decimi di bianca. Tenendo presente che questa frazione dà luogo ad un valore minore di 1 in quanto il numeratore è più piccolo del denominatore allora possiamo concludere che Antonia risulta essere più bassa di bianca. Dal testo inoltre leggiamo che Larissa risulta essere i 6 settimi di bianca. Visto che questa frazione ha numeratore più piccolo del denominatore questa quantità è una quantità minore di 1 e allora deduciamo che Larissa risulta essere più bassa di bianca. Da queste due osservazioni possiamo dedurre che certamente bianca è quella più alta ma lo scopo è andare a determinare qual è quella più bassa delle tre. Dobbiamo allora confrontare l'altezza di Antonia con quella di Larissa. Possiamo scrivere che l'altezza di Antonia corrisponde a 8 decimi di quella di bianca mentre l'altezza di Larissa corrisponde ai 6 settimi dell'altezza di bianca. Per capire quale delle due miche è più bassa sarà sufficiente per confrontare tra di loro i numeri 8 decimi e 6 settimi. Come prima cosa semplifico 8 decimi e scrivo 4 quinti. Ricopio 4 quinti e 6 settimi. Ora per confrontare queste due frazioni eseguo il minimo comune multiplo tra 5 e 7. Risulta essere 35 che scrivo a primo denominatore e a secondo denominatore. 35 diviso 5 ottengo 7 per 4 ed ottengo 28. 35 diviso 7 pari a 5 per 6 ed ottengo 30. Ottengo così due frazioni equivalenti ossia 4 quinti è equivalente a 28 trentacinquesimi e 6 settimi è equivalente a 30 trentacinquesimi. Ora posso confrontare le due frazioni. Visto che ho lo stesso denominatore confronto i numeratori. 28 risulta essere minore di 30 e quindi posso concludere che 4 quinti è minori di 6 settimi e allora deduco che l'altezza di Antonia è minore di quella di Larissa. Tenendo presente che Larissa è più bassa di Bianca scrivo minore di B e allora tra le tre amiche quella più bassa risulta essere Antonia. Vediamo quest'ultimo problema. Albert e Leonardo si preparano per una gara di ciclismo e il loro istruttore ha creato per ciascuno un allenamento personalizzato. Entrambi iniziano pedalando alla stessa velocità costante. Dopo 10 chilometri l'istruttore dice a Leonardo di proseguire a una velocità pari a 7 quinti di quella iniziale e ad Albert di continuare a una velocità uguale ai 9 settimi di quella iniziale. Chi dei due percorre l'ultimo tratto a velocità maggiore? Per risolvere questo esercizio indichiamo con v la velocità iniziale con cui pedalavano Albert e Leonardo. Dopo 10 chilometri l'istruttore dice a Leonardo di proseguire ad una velocità pari ai 7 quinti di quella iniziale e allora posso scrivere che la velocità di Leonardo sarà pari ai 7 quinti di quella iniziale mentre Albert dovrà continuare a una velocità uguale ai 9 settimi di quella iniziale e allora posso scrivere che la velocità di Albert è pari ai 9 settimi della velocità iniziale. Per capire chi dei due percorre l'ultimo tratto ad una velocità maggiore sarà sufficiente determinare quali delle due frazioni tra 7 quinti e 9 settimi risulta essere maggiore. Per far questo riscrivo le due frazioni 7 quinti e 9 settimi e le riduco allo stesso denominatore. Il minimo comune multiplo tra 5 e 7 risulta essere 35 e quindi scrivo linea di frazione 35, linea di frazione 35. 35 diviso 5 è pari a 7 per 7 ed ottengo 49. Ottengo così due frazioni equivalenti tra di loro. 7 quinti è equivalente a 49 trentacinquesimi e 9 settimi è equivalente a 45 trentacinquesimi. Ora che ho lo stesso denominatore posso confrontare tra di loro i numeratori. Visto che 49 è maggiore di 35 posso concludere che la prima frazione è maggiore della seconda, ossia 7 quinti è maggiore di 9 settimi. Da questo deduco che la velocità di Leonardo risulta essere maggiore della velocità di Albert in quanto 7 quinti è maggiore di 9 settimi e sarà Leonardo a percorrere l'ultimo tratto a velocità maggiore. E con questo termino il tutorial su esempi di problemi risolubili con le frazioni.